È una terza edizione davvero piena, ricca di contenuti sia dal punto di vista dei filmati sia dal punto di vista dei rappresentanti istituzionali. Sono davvero lieto di dare il via a questa rassegna che caratterizza Ardesio da un punto di vista culturale in maniera molto importante dopo la ribalta nazionale data dall'audizione in Parlamento e per la quale stiamo preparando per il prossimo anno un'audizione anche in Parlamento europeo. Quindi un festival che è partito in sordina ma che sta riscuotendo davvero molto molto molta attenzione sia dal punto di vista nazionale che internazionale. Allora siamo qui alla terza edizione di Sacrescene, un festival davvero importante per Ardesio e davvero per noi è una gioia essere qui a poterlo inaugurare. La terza edizione di solito diciamo se è quella della prima è quella della nascita, la seconda è quella della conferma, la terza potremmo dire che è quella della consapevolezza. Siamo consapevoli che l'unicità di questo festival può dare un risvolto importante per Ardesio sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista turistico. La nascita di questo festival voluto fortemente anche e soprattutto per valorizzare il nostro santuario davvero ci ha fatto scoprire che essendo unico può avere delle potenzialità importanti e ovviamente siamo solo alla terza edizione ma speriamo che possiamo continuare così perché abbiamo avuto ben 70 film che si sono presentati in concorso, di questi 70 ne sono stati selezionati dalla nostra giuria 17 e durante questi tre giorni verranno proiettati uno dietro l'altro proprio per dare un contesto importante di questa tre giorni. Il festival racchiude però al suo interno non solo Italia, non solo Europa ma ormai è già alla terza edizione lo possiamo dire davvero internazionale. Quindi è davvero l'opportunità di portare Ardesio fuori dai nostri confini, dai confini della provincia, ci dà la possibilità anche di davvero ospitare anche i registi che vengono al festival e quindi un'opportunità incredibile. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo a partire dallo staff organizzativo quindi da Vivi Ardesio, da Fabrizio Zucchelli che ha avuto questa straordinaria idea e ringrazio tutti gli enti, le istituzioni e gli sponsor che davvero hanno reso possibile questa incredibile terza edizione. Noi siamo stati invitati gentilmente dall'amministrazione e abbiamo accettato con enorme piacere questo invito. L'idea ci risulta sicuramente vincente, affascinante e adatta al luogo. Abbiamo appreso che è stato inserito un video relativo alla nostra festa, la festa di Ceri che si svolge a Cubbio ogni 15 maggio. Questo ci ha fatto immensamente piacere e siamo stati contenti che questo video sia stato apprezzato e sia stato inserito nella vostra manifestazione. Per cui siamo qui a testimoniare la nostra vicinanza e il nostro ok a questo evento. La riconferma del valore del Festival Sacra Scena e anche quest'anno la sua terza edizione è il fatto che viene incrementato di nuovo il numero dei film partecipanti e la composizione internazionale di questi film. E con piacere da rappresentante del territorio bergamasco in Europa, anche quest'anno ho cercato di dare il mio piccolo contributo a questa bellissima iniziativa che promuove il territorio, promuove i nostri comuni, promuove la nostra cultura e promuove il valore che le piccole comunità come quella di Ardesio e le nostre piccole comunità montane sono in grado di dare anche a livello internazionale. motivo per cui sarò molto lieto, magari già all'inizio dell'anno prossimo, di ricevere una delegazione degli organizzatori a Bruxelles al Parlamento Europeo per presentare, vista anche il carattere internazionale che chiaramente questo evento ha, la quarta edizione del Festival Sacra Scena che avverrà nel 2023.